ecco che compare il bordo della luna, anche qua si stabilizza l'esposizione perché diminuisce la parte oscura dell'immagine, quella macchia rotonda che adesso si sta avvicinando al centro del mare la crisi, un grosso bacino, c'è un cratere bianco abbastanza luminoso, in bassa sinistra Proclus, però non sono certo, ecco, quella è la parte sentionale del mare della serenità, con a destra il circolo del cratere posidonus, una parte enorme ma della serenità ci sono i monti calcoli e adesso compare a sinistra la macchia di pilota e infine la zona vicino al terminatore, che distingue la zona tra il giorno sulla luna e la notte sulla luna c'è un cratere in alto, molto allungato, quasi tutto in ombra, quello lì è Philoius Penso ed ecco che transita tutta la luna